aprirsi a nuove opportunità non solo microcredito ma anche supportare le famiglie nel loro bilancio familiare non solo microcredito ma anche incontrare le persone e poi via ciao Sarker, non solo microcredito ma anche trovare l'olio di senape da Sarker ogni giorno sentiamo felici quando andiamo a lavoro perché sappiamo che stiamo facendo la nostra parte in cambiare la nostra società perché microcredito funziona, microcredito proporziona opportunità non solo credito ma anche servizi, supporto e mentor